si continua un braccio su, su, si sta limonando per il mio direttimento trattatelo come un bagger con le gambe piegate con le giunture in basso un po' di noccolate se vuole sulle ginocchia si possono piegare e il nuoto lo do io il nuoto, il testo e ne ho fatto uno di questi, andiamo due e mezzo li pagano uno di questi, no non usate, non usate la mano, non usate base sulle gambe, andiamo non usate la mano, la mano sta aperta con le giunture di barricade non come il polso, col polso non ti pay niente con il dorso e la mano, non dici di fare col polso sinistra? 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 Ok E' finito il tiro Di nocca No, quello ti fai altre cose E' con quattro No, con quello ti fai altre cose Sono state apposta Due cosani e quattro la nocca Allora, per me No, per me Non, 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 per me Perché non stai correndo? Bravo Le dita stanno con la mano roccia Così Non, per me Mi 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 Grazie. 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 Stop.